Ha preso il via sabato il campionato di Serie C regionale di volley con la neopromossa Virtus Carifano che ha perso al tie-break a Falconara. L'esordio casalingo per la squadra si terrà sabato prossimo alla Trave alle 18 contro Ostra Vetere. La Virtus è stata inserita nel girone nord assieme ad Agugliano, Ancon Volley, Ostra Vetere ma anche Falconara, Osimo, Sabini, Castelferretti e Bottega. La formula prevede che al termine della prima fase le prime quattro dei due gironi andranno nel pole promozionale con la prima promossa direttamente in B2 mentre per la seconda piazza se la vedranno le squadre classificate dal secondo al sesto posto oltre la prima della pole salvezza. Per le retrocessioni al momento due molto dipenderà dalle formazioni marchigiane che scenderanno dalla B2. L'organico della Virtus è più o meno lo stesso della passata stagione con i veterani Mazzanti, Guescini e Rondina pronti a fornire un contributo d'esperienza a Giorgi, Pierotti e compagni. Intanto tanti giovani e tanto spettacolo nell'ottava edizione del Memorial Paolo Cioccia al tradizionale appuntamento e ricordo del compianto presidente della Virtus Carifano Volley scomparso prematuramente. La manifestazione organizzata domenica scorsa dalla Virtus Carifano in collaborazione con l'APAV di Lucrezia e il centro sportivo italiano ha preso una piega diversa rispetto alle passate stagioni. Non più una sfida tra prestigiosi club via 1 ma un torneo giovanile che ha visto confrontarsi nuove formazioni in rappresentanza del meglio del volley nazionale, la categoria under 15. Per la Virtus Carifano di Patrizio Rovinelli, quinta assoluta ai campionati italiani under 14 dello scorso giugno in Calabria, è stata l'occasione buona per riscattare quel piazzamento andato un po' stretto. E i fanesi l'occasione l'hanno sfruttata, aiutati anche dai risultati delle gare del mattino che hanno sovvertito tutti i pronostici. A sorpresa le lombarde Diavoli Rosa, Brughiero e Segrate 1978 sono rimaste fuori dal girone finale, mentre la Virtus, mantenendo fede alle aspettative, ha superato di slancio sia il Loreto che il Volle Argentario. Nelle finali del pomeriggio, disputate al palazzetto, ha sconfitto poi per 2-0 sia il Volle Tate Chieti che il Trentino Volle, aggiudicandosi il torneo. Alla fine i riconoscimenti per tutti, come quello alfanese Nicola Iannelli con il premio Eden Viaggia al miglior giocatore, alla presenza dei familiari del presidente Cioce e delle autorità, il sindaco Aguzzi e presidente della FIPA, Marche Brasili, fino ad arrivare alle vecchie glorie della Virtus Carifano come Roberto Pietrelli e Giuseppe Sorcinelli.